vedi in campagna il tempo da una volta hanno riunito pure ora per dire tanti anni fa lui la si sprega in campagna adesso come costa la vita adesso faccio vedere una cosa guarda ora guardi, guarda molto qualulità alli abbiamo fatto che faccio i piedi così faccio i piedi così faccio i piedi così ecco adesso si fa così è uno ecco la la latta questa è la miscina latta questa è la miscina latta andiamo a prendere questa è la miscina latta questa è la mia io mi sto ho fatto allora lo ho detto ma non è piano cosa la mia è buono la mia è buono è buono anche è buono qui qui, qui, qui e qui, ecco qui, allora, cosi è lì, questo va qui sotto, un colpo, ecco qua, che sarà portato, ecco qui, e adesso con la forza delle cinocchia, no, questo c'è, ecco, 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 mettiamo questi qua e mettiamo qui vediamo questa acqua 1, 2, 3, 4, 5, 6 non trova più perché sennò non li basterontano ecco qua allora la parte qui sotto è più umida qui è umida è più forte la roba quindi fa così adesso faccio con la mano